E siamo tornati all'interno del padiglione 8 di Umbria Fiera e siamo qui con il signor Merli, Giancarlo, ti chiamerò Giancarlo, per i forni Fontana. Un regalo insolito, ma una novità interessante e un regalo soprattutto funzionale, utile in questo Natale di crisi, che però può essere anche un'opportunità. E' chiaro che è una grande opportunità in quanto i nostri forni con una piccola quantità di legna, circa 2 kg dai 2-3 kg di legna, riusciamo a cucinare circa 3 ore senza rimettere più alimentazione. Quindi praticamente se andiamo a fare dei calcoli in base a quanto costeranno le energie, compresa sia l'energia elettrica, i gas, le fonti di energia importate, eccetera, se noi andiamo a vedere il nostro forno, sì che avrà un costo, però nell'arco di due anni possiamo garantire che sostituisce, viene pagato con il risparmio dell'energia che si utilizzerebbe diversamente. E un'ultima domanda, anche l'allestimento del forno è semplice e molto immediato, tanto è vero che in 20 minuti potete installare il forno? Installare i forni nell'esterno del giardino, visibile esteticamente in materiali ferrosi, acciaio, eccetera, si possono inserire nell'interno dell'appartamento, a fianco a un camino, in un salone, in una camera dove si può uno rilasciare, eccetera, e si possono installare esteticamente sul giardino in un involucro esternamente in materiale, diciamo, muratura, che è prefabbricato, lo possiamo mettere in circa 20 minuti, noi arriviamo con un camion, installiamo, 20 minuti il forno è pronto per cucinare. Grazie. 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 Grazie.